Io direi che forse ci sono due motivi, innanzitutto presentarsi al pubblico in maniera umida, io sono Umbro, probabilmente porto dietro ancora il messaggio di San Francesco, perché in Umbria nel paese del sonnato c'è molta semplicità e molta umiltà e questo modo di essere e di fare probabilmente mi è arrestato come DNA. La seconda però, la più importante, a parte l'umiltà, il modo di presentarsi non aggressivo, ma quasi colloquiale, come era Bernacca del resto. Il secondo motivo è il linguaggio, il linguaggio è importante, bisogna usare il linguaggio della gente per parlare, se io dico che domani ci sono precipitazioni, voi capirete sì che ci saranno pioggia o neve, ma già un termine tecnico, un termine meteorologo, io precipitazioni le chiamo sempre pioggia. Se a un meteorologo la mamma chiedesse che tempo farà domani caro mio figlio e lui rispondesse guarda domani mamma ci saranno precipitazioni nevose in montagna e manifestazioni temporalesche sulla Val Padana, la mamma lo guarderebbe in fascia, ma cos'è ti hanno fatto il lavaggio del cervello? Io avrei usato invece le parole domani nevica e montagna ci saranno temporali in pianura, le manifestazioni le fanno le folle, ma non i temporali. Il linguaggio è importante per far capire, perché la gente si senta di colloquiare alla pari con il meteorologo.